Musica Partirà da questo fine settimana Cucinites, quattro serate a tema teatro e cibo che si terranno ogni ultimo venerdì del mese al centro Ciro Colonna di Ponticelli. L'obiettivo è quello di riuscire a creare una proposta culturale e teatrale che coniughi l'intrattenimento con il cibo all'interno di una cucina sociale che già di per sé rappresenta una sfida nel quartiere Ponticelli. L'iniziativa promossa dall'assessorato ai giovani e al lavoro è realizzata da Ascender, centro di documentazione e ricerca e collettivo Lunazione, nell'ambito del progetto Cucinapoli Est per il bando dei quartieri dell'innovazione. Grazie ad un bando dei quartieri dell'innovazione promosso da Comune di Napoli abbiamo vinto un progetto per un'iniziativa a Ponticelli dove è nata una cucina sociale che tra l'altro già impiega donne del quartiere e impiegherà donne del quartiere. Quindi anche un'ipotesi di impresa sociale produttiva. Si chiama Cucinapoli Est naturalmente e è al servizio della struttura che si trova a Ponticelli via Curzio Malaparte 42 che è stata indata in fitto a maestri di strada con Cesare Morino. Il primo appuntamento venerdì 31 marzo alle 21. La rassegna proseguirà poi venerdì 28 aprile, venerdì 26 maggio e si concluderà il 30 giugno. Anche un'esperienza che crea lavoro e crea opportunità importante per quella zona della nostra città. Quindi siamo contenti di poter partecipare a questo progetto e fare in modo che ulteriori rassegni teatrali, ulteriori opportunità culturali possano mettere insieme l'esperienza di Cucinapoli Est e ci auguriamo di continuare Cucinites.